Buon pomeriggio a tutti e tutte. Sono molto contenta di essere al BTO. So che è la quindicesima edizione di questa manifestazione che ha dei numeri sorprendenti perché leggeva appunto 274 ospiti di cui 40 stranieri e più di 80 panel. Noi siamo un panel abbastanza tipico per questa manifestazione dedicata al turismo e all'innovazione tecnologica perché parleremo oggi di rigenerazione urbana, una parola usata, abusata come resilienza. Insomma ce ne sono varie in questi ultimi cinque anni di parole abusate, però adesso racconteremo poi con i nostri ospiti, Simone Santi è qua, Matteo Ceri poi ve li presento meglio. Racconteremo come questa parola, cioè la rigenerazione urbana, questo concetto, questo asset sia di investimento che rigenera i posti, i luoghi, le ex aree industriali ma anche delle aree, dei territori abbandonati per ricreare vita, investimenti, mete turistiche, per ricreare una comunità. Quindi una cosa che mi sento di dire riguardo alla rigenerazione urbana è che sicuramente funziona quando c'è una rigenerazione anche sociale, quando c'è, quando ci sono due elementi fondamentali, uno è sicuramente l'innovazione e l'altro è la collaborazione stretta e proficua tra pubblico e privato, il modello Milano è un modello ma non è l'unico e forse oggi non è neanche più il caso di chiamarlo modello, però ha sicuramente presentato delle novità di collaborazioni, ha strutturato un meccanismo tra pubblico e privato che funziona, poi appunto Mind ne è un esempio. Prima di, e mi metto gli occhiali, mi scuso, prima di parlarvi appunto della rigenerazione degli esempi, mi piaceva raccontare un po' lo scenario, lo scenario è fatto anche di leggi che mancano perché la rigenerazione urbana aspetta una legge che conformi tutti gli approcci, perché ogni regione si sta attrezzando per dare una normativa adeguata, ciò che manca è una legge nazionale, ci sono due leggi, sicuramente una è dell'opposizione e l'altra appena depositata del governo, ma ci sono tantissime idee per raccontare quello che può essere un approccio normativo per la rigenerazione urbana. Leggevo pochi giorni fa, e poi vi presento gli ospiti, dei dati molto interessanti, che sono forse i primi dati sulla rigenerazione urbana, il primo rapporto nazionale a cura di scenari immobiliari, i numeri sono veramente interessanti, in Europa il recupero delle aree urbane dismesse è già da tempo il principale mercato immobiliare, inoltre in Italia la rigenerazione urbana costituisce e costituirà soprattutto un elemento fondamentale per lo sviluppo del paese da qui al 2050, questi sono proprio gli ultimi dati e gli unici perché è il primo rapporto nazionale, e andrà a interessare 920 chilometri quadrati di suolo rigenerabile, 350 milioni di metri quadrati di superfici immobiliari realizzabili, con un fatturato, sono previsioni, industriale da 2.300 miliardi di euro e 100.000 nuovi posti di lavoro in 27 anni. C'è un racconto anche del paese in questi dati perché il 21% sarà probabilmente investimenti realizzati in Lombardia, seguito dal Veneto, il 19% dell'Emilia Romagna, Piemonte e Lazio. Sul fronte dell'edificabilità saranno le stesse regioni a dividersi la maggior parte di 350 milioni di metri quadrati di superficie lorda, sempre Lombardia in testa, e c'è da dire che anche le finanze pubbliche, questo secondo me è un elemento che dovrebbe interessare soprattutto gli amministratori, e ne avranno un beneficio che è stimato tra i 20 e i 25 miliardi di euro di gettito aggiuntivo annuo per lo Stato italiano. Quindi la rigenerazione urbana non è moda, questo per dirvi che si è vero, lo leggiamo ovunque, molti dei progetti che vengono raccontati probabilmente non sono rigenerativi, però è sicuramente una visione importante per le nostre città, per ripensarle e per rivederle. Ora io vi presento i nostri ospiti che raccontano finalmente degli esempi di riqualificazioni, di rigenerazione, uno è accanto a me, Simone Santi, e di Mind avrete sicuramente sentito parlare, development director di Land Lease, su progetto di Mind, che però poi ci racconterà anche come all'estero ci sono altre visioni, altra progettualità, è collegato, c'è Matteo Cerri, che è editore di Millionaire, ma anche co-founder di It's Italy, che è una realtà veramente interessante, ci racconterà molte curiosità, ma anche un progetto economico molto interessante, che è spalmato su tutto il nostro territorio nazionale. Iniziamo con l'ospite che ho qua vicino a me, Simone Santi, che è un progetto che ha riqualificato la Ex Area Expo di Milano, l'Expo 2015, fatto nel nostro paese, realizzato, e a te ti volevo chiedere sostanzialmente, se tanto parlato di questa formula vincente, che è stata questa collaborazione tra pubblico e privato, innanzitutto ti vorrei chiedere come è nato il progetto, e anche un po' di numeri, cioè quali sono i metri quadri, gli investimenti fatti fino ad oggi. Buongiorno a tutti, intanto grazie per l'ospitalità, il turismo esula un po' da quello che noi di Lendlis facciamo quotidianamente, come dicevi tu Francesca, noi ci occupiamo di rigenerazione urbana su larga scala, Lendlis è una quotata australiana, che opera in quattro regioni, Cardinalia, Australia, Asia, Europa e Nord America, attraverso quelle che sono un po' più di 20 città, o gateway cities, così come le chiamiamo noi, tra cui Milano dal 2018, con Mind da un lato, e il progetto invece di Milano-Santa Giulia, che è ancorato dalle Olimpiadi del 2026, che avverranno tra Milano e Cortina tra un paio d'anni. La domanda era sulla relazione tra pubblico e privato e... Anche un po' di numeri, per capire che tipo di progetto è, perché è davvero un grossissimo investimento, forse diciamo uno dei più grandi progetti rigenerativi del nostro paese. Assolutamente, allora per noi il progetto di Mind nasce quando Expo era ancora in essere, quindi io mi ricordo della primissima riunione che abbiamo fatto su quello che sarebbe poi diventato Mind, l'abbiamo fatta nel 2015, quando Expo era ancora in essere e il governo non sapeva che cosa avrebbe fatto di questo progetto una volta finito l'evento a ottobre del 2015. Noi di Mestiere, come dicevo, ci occupiamo di rigenerazione urbana su larga scala, io prima di trasferirmi a Milano nel 2018 ho fatto 18 anni a Londra, seguendo tra le altre cose con l'Enlis, le Olimpiadi del 2012, e quindi ho iniziato a dare una mano su quella che era un po' una scommessa. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è, abbiamo, mi ricordo all'epoca c'era ancora il governo Renzi, a dicembre del 2015 abbiamo consegnato un libretto all'ufficio di Renzi dicendo se fossimo noi quelli a dover sviluppare il post-expo, noi ci metteremmo questo, questo e questo. Quindi abbiamo iniziato, se vogliamo, a dare delle indicazioni ben precise su quello che sarebbe servito per attirare un partner privato come noi. e una delle indicazioni è stata quella di mantenere il pubblico investito all'interno del progetto. E così poi è stato. Quindi se facciamo un fast forward a fine 2017, il governo fa questa gara per cercare uno sviluppatore, un partner privato, la vinciamo noi e la vinciamo attraverso un meccanismo che è abbastanza tipico per l'Italia, ovvero il governo, anche grazie alla collaborazione che c'è stata con l'ex società che ha gestito la rigenerazione delle Olimpiadi a Londra, ha deciso non di vendere i terreni, bensì di mantenere di proprietà e di fare la gara su base concessoria. Quindi noi non abbiamo comprato i terreni dal governo ma abbiamo vinto una concessione di 99 anni per lo sviluppo e la gestione dell'aria. Quindi tutto quello che noi avremmo costruito alla fine di questi 99 anni tornerà nelle mani dello Stato. Per dare un paio di numeri parliamo di un progetto che si estende su 100 ettari con un milione di metri quadri di aree sviluppabili. Di queste circa il 50% sono costituiti dalle tre grosse ancore istituzionali. Abbiamo il Galeazzi che è un IRCS, è un ospedale di ricerca che è aperto ad agosto dell'anno scorso e quindi novissimo. Giusto per dare un ulteriore set di numeri, un ospedale da 600 camere e circa 30 sale operatorie con una popolazione che viaggia tra le 2.500 persone giornaliere, quindi abbastanza importante ed è anche un ospedale universitario. Poi abbiamo l'Human Technopole che è un centro di ricerca finanziato con capitale statale per un finanziamento di 10 anni che oggi ospita all'incirca 300 ricercatori, gran parte delle quali sono stranieri e si focalizza tra le varie cose sulla medicina di precisione, sulla ricerca e sulla sequenza genomica e il DNA. E loro sono insediati a Mind già da circa tre anni. Infine abbiamo Unimi, Università Statale di Milano, che entro il 2026, e la costruzione è iniziata a ottobre, quindi un mese fa, trasferirà il campus ingegneristico e medico a Mind, quindi un'ulteriore iniezione di 20.000 persone tra studenti, ricercatori e professori. Il resto, ovvero il restante 50% del progetto, invece lo sviluppiamo noi in forma privata, quindi ci saranno uffici, laboratori, ci saranno hotel, ci saranno studentati, ci sarà retail, tutto quello che l'Enlist tipicamente mette all'interno dei suoi progetti per creare quelli che noi chiamiamo dei mixed assets, quindi delle città all'interno delle città. Penso che sia proprio questa, forse la chiave di lettura di una rigenerazione riuscita, cioè questa forte collaborazione tra come le chiami tu le ancora pubbliche e gli investimenti privati, ma in questo, visto che penso in Italia sia forse uno degli ostacoli più grossi, questo parlarsi, sapersi parlare, avere gli strumenti per poter parlare uno stesso linguaggio, volevo sapere come l'Enlist ha affrontato questa relazione, cioè quali sono stati i meccanismi di difficoltà oppure non c'è stata difficoltà, c'è Milano, il comune di Rò, giusto, mi pare se è interessato, erano già pronti, erano attrezzati, avevano un lessico giusto per coordinare questa collaborazione, quali sono stati i problemi, se ci sono stati, penso di sì. Problemi tantissimi, non credo che abbiamo il tempo per elencarli uno a uno, perché l'evento dura solo due giorni. Io parto dal presupposto che la rigenerazione urbana rispetto ad altre realtà geografiche è abbastanza nuova in Italia, è nuova come attività e di conseguenza vengono anche a marcare gli strumenti, se vogliamo, politici, urbanistici per governare progetti di tale scala. Quindi il grosso vantaggio che noi abbiamo avuto è che la regione, la città di Milano, i municipi, sia di Rò, come dicevi tu, che di Milano, hanno sposato la visione del progetto e quindi c'è stato un fortissimo spirito di collaborazione. Detto ciò, difficoltà molte, perché è un progetto nuovo a cui mancavano, come dicevo, gli strumenti per poterlo sviluppare. Quindi li abbiamo un po' dovuti costruire cammin facendo. Molto complicato, però ci tengo moltissimo a dire che l'amministrazione ha sposato la visione, ha creduto e tuttora crede nel progetto e questo è un elemento fondamentale per poter lavorare su una scala e complessità simili. Quindi bisogna convincere le amministrazioni ed educarle alla rigenerazione. Invece, per quanto, quindi questo è un macro sistema per intervenire con la rigenerazione urbana, in una grande area, con grossi investimenti, con una società multinazionale. Invece, Matteo Cerri ci racconta un altro aspetto, secondo me, molto interessante, che riguarda invece i piccoli comuni, cioè il It's Italy che adesso ci racconterai benissimo tu di cosa si tratta, è una rigenerazione che parte dai piccoli centri, non li chiamiamo borghi, attenzione, poi vi spieghiamo perché. Che cosa è It's Italy, come funziona e com'è nata? Innanzitutto, vi saluto e mi scuso per non essere presente lì con voi e ringrazio gli organizzatori e tutti gli ospiti. It's Italy è nata da un'esperienza che noi avevamo già maturato come piccoli sviluppatori nel settore immobiliare dedicato all'hospitality nel decennio passato, cogliendo una realtà che già si stava muovendo, quello di attenzione verso i piccoli comuni, i borghi, poi uscendo dalla dialettica romantica dei borghi, con un'evidenza che anche a causa di quello che è successo con il Covid, una gran parte dei professionisti italiani, ma soprattutto stranieri che sono quelli a cui ci siamo rivolti noi all'inizio, hanno considerato l'ipotesi di iniziare una vita altrove, se non per 365 giorni all'anno o per almeno diversi mesi all'anno e identificando centri piccoli, piccole città di provincia o addirittura appunto piccolissimi comuni come un luogo ideale per lo stile di vita, per la lentezza, per lo spazio all'aperto, ma anche e soprattutto per un'esperienza di comunità che sicuramente è stato enfatizzato da quello che in tutti noi ha generato l'esperienza del Covid con due anni chiusi e essendo noi in realtà basata a Londra quindi guardando l'Italia come investitori stranieri per quanto con di anni è italiano ci siamo abbiamo guardato con grande interesse appunto il nostro paese che ha un enorme vantaggio di essere relativamente facili da vendere come destinazione turistica estremamente appealing romantica affascinante come ipotesi di poter essere un futuro luogo dove vivere soprattutto per come viene rappresentato il nostro paese per il cibo per la bellezza per il patrimonio naturale artistico ma con un grande difetto che probabilmente molti di voi hanno fatto come esperienza che innamorarsi di un luogo poi cercare casa e poi doverci mettere le mani perché stiamo parlando di case antiche o vecchie e confrontarsi con un sistema complesso o comunque diverso e parlare con il notaio l'avvocato il commercialista l'architetto il costruttore eccetera eccetera trasforma quello che è un po' un sogno romantico in un incubo pesante da gestire noi non abbiamo fatto altro che partendo dal primo comune proprio alla fine del 2020 e oggi con decine di comuni abbiamo velocizzato semplificato il processo andando a identificare gli asset cioè le case le casette perché poi sono piccoli immobili filtrando sia i comuni che gli immobili stessi rendendoli facili di comprensione rendendo facile il processo di acquisto anche di finanziamento arrivando di fatto a offrire un progetto su una casa da ristrutturare andarlo a consegnare affiancare anche la parte finanziaria e togliere tutto quello che appunto è la preoccupazione che ci sta dietro quindi se vogliamo facilitando tutto il percorso per l'utente straniero o idealmente anche italiano o italiano all'estero poi magari vediamo alcuni numeri e dall'altra parte facendo quello che noi riteniamo un servizio all'interno di una partnership pubblico privato al comune che ospita questi nostri interventi noi operiamo su asset privati cioè su case di privati case che per decenni sono state abbandonate molto spesso di proprietà di 28 eredi dispersi per il mondo che non solo non generano rendito per il comune non generano tasse ma sono spesso quasi un problema di sicurezza perché sono appunto asset abbandonati ecco noi interveniamo su quelli in comuni in media tra i 2500 e i 500 e i 5000 abitanti con qualche eccezione anche più grande andiamo su comuni che comunque hanno preservato un tessuto vitale nel senso che non sono frazioni abbandonate quelle secondo noi ormai sono progetti principalmente hospitality e una delle chiavi di lettura a cui noi teniamo particolarmente e che non nega l'aspetto hospitality è che noi stiamo attraendo non investitori in seconda case ma gente che si pone come residente e per far questo cerchiamo anche di fare attività facile a dire se difficile a farsi di matching fra il profilo di chi si propone per venire appunto a vivere in Italia e quello che poi ha la disponibilità non so se in sala avete modo di vedere la mappatura che può essere magari interessante chiediamo se è possibile far vedere la mappatura del no non è possibile ma la raccontiamo perché questa infatti era una delle domande che volevo farti e cioè capire soprattutto dove siete presenti è una cosa che forse non mi è chiara è una funzione da intermediari però anche operativi cioè come vengono scelte queste aree ci definiamo come developer on demand sviluppatori su richiesta per cui diversamente da quello che fa uno sviluppatore noi non compriamo sviluppiamo e poi cerchiamo di vendere ma opzioniamo gli asset opzioniamo le case le filtriamo in base a dei criteri oggettivi nel senso che quelle che non hanno più speranza Matteo se vuoi puoi condividere la mappa dovresti condividerla tu mi dicono dalla regia così riusciamo anche a vedere una ecco ottimo ci siamo vediamo tutto perfetto benissimo la mappa che vedete è rappresentano tutti i comuni i punti che vedete sono circa 100 noi siamo con partnership avviati circa in 65 comuni 105 dovrebbero essere l'anno prossimo anche se stiamo tirando un po' il freno a mano perché come potete immaginare gestire 100 sindaci di comuni di piccole dimensioni non è particolarmente agile così come seguire centinaia di piccoli cantieri in realtà siamo partiti con cantieri e con consegne in 23 di questi c'è una forte prevalenza del centro sud come disponibilità anche se negli ultimi mesi abbiamo dei primi casi anche un pochino più sofisticati cioè di asset anche più belli vedo la Puglia la Puglia è in pole position no? la Puglia è uno dei paesi ce l'avamo confrontati delle regioni su cui stiamo riscontrando un grande interesse innanzitutto perché a livello anche turistico ha fatto probabilmente un ottimo lavoro negli ultimi anni ma direi anche e soprattutto per proprio la morfologia degli immobili stessi uno dei difetti di parte dei comuni e dei borghi da questo punto di vista anche propriamente intesi è di avere delle case spesso a torre cioè una camera sopra l'altra cosa bella e romantica se ci passi due o tre giorni poi a viverci tutto l'anno anche no nel senso che e poi carenti di balconi o terrazzi quando noi chiaramente con Italia vediamo anche la bellezza del nostro in Puglia abbiamo il vantaggio che quasi tutte le case di fatto sono su un solo livello al massimo su due livelli e poi una direi una migliore che in altre situazioni aspetto logistico nel senso che tutto sommato è molto ben collegata con il nord Europa e ci si muove con maggiore facilità ahimè questo questo parametro rende la Sicilia e la Sardegna per esempio per quanto abbiamo tantissimi comuni partecipanti meno appetibili perché muoversi tra le montagne dell'entroterra siciliano o anche sardo non è sempre facile e veloce arrivare a Lecce dall'aeroporto di Brilli ci si mette mezz'ora per cui questa è una mappa giusto per darvi un'idea di dove stiamo interando scusa se ti interrompo un secondo ma vedo che ci sono moltissime sulla Sardegna prendo in esempio la mia isola vedo che comunque ci sono anche molti molti comuni dell'interno quindi insomma le mette non sono solo prettamente turistiche nel senso quelle da cartolina ma evidentemente c'è anche un interesse di questi investitori a come dire a stare a presenziare in un territorio che non è quello stereotipato no? Allora diciamo che questo anche per la platea che probabilmente è interessante anche l'aspetto del turismo chiaramente noi vendiamo un'opportunità di venire a vivere in Italia che non è certamente quella di Taormina di Amalfi o di Porto Cervo nel senso che in queste località i prezzi lo sapete anche di me sono particolarmente alti e asset disponibili e case disponibili sono più rare che altro noi stiamo in quella fascia di comuni interni che non sono totalmente inaccessibili abbiamo fatto questa scelta per forza di cose perché altrimenti viaggiavamo su un sogno e non sul progetto aziendale abbiamo una fascia di comuni che sono se vogliamo a un'ora e mezza dall'aeroporto a come dire a mezz'ora da un centro urbano con tutti i servizi massimo per cui questo ci permette appunto anche nell'entroterra Sardo piuttosto che quello della Sicilia di essere vicini a Taormina vicini a Olbia piuttosto che come dire sul vicino al mare però come dire a questa distanza che appunto dove si trovano gran parte dei comuni fortemente colpiti dallo spopolamento non interessati ancora da circuiti turistici che grazie a noi anche vengono aiutati perché poi alla fine questi posti bisogna portarli a vedere e quant'altro e al tempo stesso che dispongono di decine centinaia di proprietà che sono ridormienti da troppo tempo quindi noi siamo involuntariamente specializzati a livello seriale in tanti interventi direi chirurgici di piccole dimensioni più comuni appunto dell'entroterra o limitrofi a città d'arte piuttosto che luoghi turistici ma che hanno una loro vita quotidiana e non stagionale questo è un po' una caratteristica che molti dei nostri richiedenti cercano una nota poi qualche dato l'ho elencato proprio per dare l'idea non sto a leggerlo su cui noi siamo stati colpiti sin dall'inizio è che chi si è iscritto chi si è registrato per poter vendere le proprietà e trasferirsi idealmente in Italia è una popolazione giovane si vedo 43 anni l'età media esattamente noi ci attendevamo una forte richiesta un po' simile al mercato spagnolo piuttosto che parlando del mercato inglese per esempio o nord europeo quindi pensavamo a ricevere tantissime richieste da parte di pensionati ci sono chiaramente che loro però la media è 43 anni questo vuol dire che abbiamo anche singoli piuttosto che giovani coppie e anche famiglie e questo una parte è molto interessante perché sono individui con una propensione a lavorare a vivere devono fare qualche cosa vogliono anche investire nelle comunità in cui vanno non vanno a cercare di farsi servire ma vogliono coinvolgersi dall'altra problema per molti dei comuni in cui operiamo richiedono anche servizi al professionista alla persona alla famiglia e questo è una delle ragioni per cui a livello di filtro alcuni comuni sono stati scartati ti volevo chiedere un'altra chiedo anche a te quali sono le difficoltà con le amministrazioni che qua ovviamente sono amministrazioni di piccoli comuni quindi anche l'organizzazione interna immagino sia degli studi degli uffici pubblici con cui tutti i rapporti con voi è molto complicata quali sono le complicanze allora noi abbiamo vissuto un momento di un periodo di luna di miele in cui abbiamo trovato decine ma quasi troppi mi verrebbe da dire di amministratori comunali sindaci che poi in questi comuni fanno veramente tantissimo quasi più livello di volontariato perché il sindaco in un comune piccolo fa veramente tantissimo la realtà è che poi dovendo lavorare con l'ufficio tecnico piuttosto che su anche semplicemente la mappatura delle proprietà o capire di chi è che cosa ha fatto emergere veramente tantissimi problemi quindi c'è al di là della volontà molto spesso ci siamo scontrati con quasi l'impossibilità a procedere proprio perché mancavano i dati noi come ormai gran parte dei business viviamo di dati e non possiamo permetterci di investire troppo se dall'altra parte la mappatura piuttosto che la fornitura appunto di tutti i dati di cui ci sentiamo sapere appunto di chi ha un terreno o quali sono i regolamenti urbani o quale altro molto spesso se non c'è risposta per noi purtroppo è una ragione di non di non proseguire dall'altra parte è vero che lavorare con comuni piccoli ci si muove con una certa snellezza è più facile fare certe cose c'è un problema di di non di spesso di non di non allineamento fra l'amministrazione comunale cioè fra la giunta o il sindaco in quanto tale con la sua visione che come premessa avendoci accettato la nostra proposta vuol dire che ha una una visione di ripopolamento di rigenerazione e quella che poi è la realtà del paese stesso non tutte le comunità non tutti gli abitanti non tutti gli esercenti mi spiace dirlo sono ospitali o accolgono ben volentieri una piccola irruzione di qualcosa di nuovo e questo è un'altra ragione per cui appena ce ne rendiamo conto fa da discriminante nel procedere o meno con un comune piuttosto che con tre paesi più là dove magari le cose sono diverse benissimo e questo non è non è spesso ovvio certo allora invece Simone Santi quindi dal micro al macro dall'Italia dei piccoli comuni all'estero qual è l'esperienza rigenerativa ad altre parti funziona sì funziona devo fare un po' di ginnastica mentale devo dire siamo passati dai borghi nel senso che tu dicevi di questo nuovo approccio tuo con l'end lease e con dei progetti che stanno fuori dall'Italia come quali sono gli approcci ecco devo dire che neanche i progetti se c'è qualcosa in campo in questo momento noi siamo fortemente o meglio è da una ventina d'anni ma dico in questo momento perché io sono di nuovo presente sul mercato londinese da cui provengo quindi sono appena tornato a Londra ci stiamo fortemente operando sul mercato delle scienze della vita life science per così dire perché quello di cui ci siamo resi conto e credo purtroppo o per fortuna tutti quanti con il covid e che ci sono delle delle verticali che che andranno sempre comunque per delle necessità ben precise che non sono necessariamente negative ma ma anzi possono possono essere di valore aggiunto per questo cosa intendo dire che soprattutto con il covid e grazie alla presenza di mind che come dicevamo prima annovera tre grosse ancore di ricerca sviluppo e ospedale quindi healthcare ci siamo fatti un po' le osse in quello che è il campo della scienza pur operando in tutt'altro campo che è quello dello sviluppo immobiliare alla fine e ci siamo resi conto che soprattutto in città che noi definiamo tier one quindi possono essere le Londra le Parigi le New York c'è da un lato cosa fortemente spinta dal covid la volontà invece al contrario di quello che dicevamo poc'anzi di essere in città dove le cose accadono quindi non so se sia una contrapposizione o un effetto complementare però quello che stiamo vedendo noi per esempio con i grossi centri di ricerca con le case farmaceutiche che in Inghilterra per esempio hanno storicamente sede tra Oxford e Cambridge oggi c'è una fortissima volontà invece da parte di molte di queste imprese non solo ad avere sedi commerciali in città ma addirittura a fare ricerca e sviluppo in città e quindi uno dei progetti più grossi che noi stiamo sviluppando è il progetto di Houston che è la riqualificazione della stazione di Houston che è accanto a King's Cross e dalla quale parte HS2 quindi l'alta velocità inglese che va da Londra verso il nord quindi con HS2 ci sarà un corridoio che andrà da Birmingham e Manchester fino a Parigi questa parte oggi in Inghilterra nonostante sia la patria della locomozione su rotaie manca siamo stati molto più bravi noi per quanto riguarda l'alta velocità e quindi il knowledge quarter quindi il centro del sapere così come si chiama il progetto è ancorato attorno a questa stazione e se guardiamo a quello che c'è nell'arco di 10-15 minuti a piedi dalla stazione di Houston abbiamo il Francis Crick Institute che è uno dei centri di ricerca più importanti al mondo per il cancro abbiamo UCL che è una delle università per quanto riguarda le scienze della vita più forti al mondo e abbiamo o meglio iniziamo a vedere l'apertura di tutta una serie di farmaceutiche tra cui AstraZeneca GSK e Merck che vogliono trovarsi in città perché è là che il talento vuole stare e quindi oggi vediamo questo fenomeno di urbanizzazione che potrebbe essere se vogliamo quasi controintuitivo dopo il covid però i numeri ci dicono questo di attività che fino a poco tempo fa avevano una predominanza suburbana e parlo soprattutto della ricerca del farmaceutico ma che oggi in quanto la volontà del talento è quello di vivere in centri urbani si trovano per forza di cose a migrare in città e quindi se noi guardiamo le cosiddette vacancy rates per laboratori a Londra quindi i laboratori commerciali che non sono in uso in una città come Londra stiamo parlando dell'1% quindi non c'è laboratorio che sia sfitto a Londra uno perché ce ne sono pochi perché la tendenza è relativamente nuova e in più perché è se vogliamo vittima di questo trend che è esplogio soprattutto dopo il covid ok quindi come azienda noi abbiamo fatto un po' un pivot e minding questo è stato un precursore nello sviluppo quindi di progetti di rigenerazione urbana quindi riqualificazione di pezzi di città però ancorati su un argomento molto forte quindi su una verticale scientifica sull'innovazione quindi ritorna questo legame fortissimo della rigenerazione con l'aspetto innovativo e tecnologico e funziona quindi anche all'estero e funziona perché è un vostro asset no? Devo dire che ogni città ha le proprie regole le proprie dinamiche però sicuramente la formula di mind che per riassumerla in maniera molto semplice vede il contenuto precedere il contenitore quindi dove storicamente cito Dubai build and they will come quindi costruiamo e la gente prima o poi arriverà noi a mind abbiamo fatto un percorso inverso ci siamo detti costruiamo il contenuto e quindi il purpose il cosiddetto il motivo per essere a mind ed è da lì poi che la parte invece di real estate seguirà ed è una formula che a mind abbiamo visto essere vincente infatti se consideriamo un metodo per misurare il successo di questa operazione ci siamo dovuti ritrovare a recuperare 15.000 metri di padiglioni che avevamo ereditato da Expo 2015 e che non avevamo alcuna intenzione di recuperare perché erano stati progettati e costruiti per durare sei mesi quindi non c'erano gli impianti non performavano da un punto di vista energetico però questo driver contenutistico grazie anche alla relazione tra pubblico e privato e le istituzioni che si trovano oggi a mind hanno generato un forte interesse di spazi e per sopperire a questa esigenza abbiamo dovuto e per fortuna che non li avevamo demoliti tutti recuperare quanta più infrastruttura esistente ci fosse che è un altro tema che poi ovviamente si aggiunge alla verticale della sostenibilità ma adesso tornando a mind visto che l'hai citata tu di nuovo ma a che punto siete come è un progetto che finirà che sarà concluso quando diciamo che mind vede due grossissime fasi la prima grossa fase si concluderà nel 26 con l'arrivo della nuova stazione dei treni con le olimpiadi insomma con le olimpiadi e con l'arrivo del campus di Unimi questa è la prima grossa milestone perché è lì che vedremo un salto quantico nella popolazione del progetto perché solamente con l'operazione dell'università arriveranno altre 20.000 persone il progetto intende chiudersi entro il 2030 con una popolazione residente che oscillerà tra le 60 e le 70.000 persone quindi a tutti gli effetti un altro comune bene invece Matteo volevo chiederti un proposito di tessuto contesto nei piccoli comuni ovviamente questi investimenti creano anche un legame comunitario supportano anche delle imprese locali come la relazione per esempio con l'imprenditoria locale cioè esiste? Allora necessariamente nel senso che se vogliamo è un circuito da riattivare molto spesso nel senso che con rare eccezioni dove siamo arrivati a livello di commercio e a livello di servizi anzi direi a livello di servizi innanzitutto e anche di commercio molti di questi comuni stavano morendo stanno morendo nel momento in cui rimane il bar e altri tre o quattro negozi la gente si sposta chiaramente laddove i servizi dove il commercio dove i negozi ci sono e questo appunto con l'invecchiamento progressivo diventa un 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 punto morto alla fine quello su cui noi siamo intervenuti lavorando da questo merito agli amministratori è proprio quello di cercare di ripartire anche da chi localmente e mi rallaccio a quello che dicevo prima non tutte le comunità sono ospitali allo stesso modo chi localmente voleva mettersi in gioco con noi cercando da una parte di premiare chi già stava facendo qualcosa a livello proprio di riattivare piccole economie riaprire il ristorante riaprire il supermercato far partire alcune aziende artigianali dall'altra anche dando quegli spazi creando degli spazi che non esistevano e che la nuova residenza richiede necessariamente e questo è successo non c'è un format ahimè uguale va di comune in comune in alcuni casi abbiamo aiutato a far riaprire il supermercato in altri abbiamo ereditato la vecchia banca del paese trasformata in un centro servizi barra co-working in altri casi abbiamo riaperto il baretto davanti al al comune ho portato anche servizi da fuori le prime evidenze tenete conto che comunque noi è da due anni poco più che siamo operativi quindi in per una tempistica immobiliare stiamo parlando di secondi il bello è vedere come in queste realtà piccole basta veramente molto poco per far ripartire ovviamente due o tre casi uno in particolare che mi sta a cuore anche perché mi vede ormai quasi affettivamente legato al paese dopo il nostro arrivo è un paese del Salento tra l'altro afflitto non solo dal popolamento ma anche dalla distruzione totale degli olivi che circondavano il paese siamo da quale siamo arrivati noi oltre alla nostra presenza sono ripartite alcune attività di hospitality ma anche di ospitalità per piccole start-up che riguardano l'agri-tech piuttosto che riaperto il cinema quasi per aprire il piccolo cinema del paese tutto legato al fatto che c'è la vicinanza di Lecce ma anche che la popolazione o grazie a noi ha preso coscienza del fatto che o reagiva o moriva nel senso questo è e si rivedono i giovani in un paese di 2000 abitanti si rivedono i giovani quindi insomma aiuta molto la consapevolezza degli abitanti del territorio del tessuto sociale se non c'è quella sinceramente noi passiamo oltre è brutto dirlo detto così però se vediamo che dall'altra parte non ci sono realtà associative che cercano di fare qualche cosa se non ci sono imprenditori locali che ci stanno a lavorare con noi ma che se manca questo aspetto è veramente c'è poco su cui si possa fare o meglio al massimo vendiamo due tre belle case e passiamo oltre devo dire che non tutte non tutti i nostri casi sono stati di successo lo dico con massima tranquillità nel senso che tre o quattro casi su una ventina abbiamo già deciso di non andare oltre perché? perché abbiamo capito che non c'è spazio per fare quel progetto da cui avevamo partito a livello strategico col comune o perché la nuova amministrazione è arrivata e ha detto no questa cosa non interessa però in gran parte i comuni dove siamo anche grazie a noi e all'accoglienza anche di di nuova popolazione devo dire che stanno reagendo coinvolgendosi coinvestendo proponendoci idee facendo cose una cosa che mi piace poter sottolineare è che probabilmente a differenza di un po' di anni fa si è anche persa quella come dire quella diatriba è meglio vivere in un paese piccolo in un borgo piuttosto che in una città di piccole e medie dimensioni o anche grandi dimensioni grazie al fatto che tutto sommato ci si riesce a muovere o gran parte delle professioni hanno una maggiore flessibilità questo aspetto se vogliamo non è diventato più un limite ma anzi è diventato un'occasione di rivincita in alcuni casi perché soprattutto anche dall'estero ma molti giovani tornano al paese d'origine e si impegnano molto attivamente a far partire investimenti cito un dato abbiamo una piattaforma che fa anche la parte crofane quindi finanzia i nostri progetti il 15% dei nostri investitori sono italiani residenti all'estero che guarda caso stanno contribuendo a investire probabilmente nei paesi di provenienza della loro famiglia così come molti progetti sono di rimpatriati piuttosto che di giovani famiglie che da Milano da Roma o da altri comuni hanno capito che possono tornare a vivere chiaramente non è un contesto che nega la rigenerazione urbana di grandi centri come Milano è un'altra è giusto un'altra faccia di resenza medaglia ma infatti visto che siamo arrivati alle battute finali del nostro incontro vi volevo chiedere inizio con Simone visto che la rigenerazione è un modo per indagare il futuro delle città dei territori come vedi il futuro delle città se la rigenerazione può essere ancora uno strumento abbiamo visto i dati sono confortanti però cosa manca a che questo modello si sviluppi ancora di più nel nostro paese ma se io guardo alle geografie delle città su cui operiamo noi quello che sta succedendo a Milano per esempio è quello che era già successo a Londra diversi anni fa ovvero la città sta diventando un po' vittima del proprio successo e quindi la città perlomeno nei cinque anni da quando ci sono io è rincarata moltissimo il housing il problema delle case a prezzi accessibili sta diventando un problema importante non solo per gli studenti cosa che è da tempo ma anche per persone per giovani che hanno primo impiego quindi io credo che da questo punto di vista la rigenerazione urbana potrà sempre aiutare perché purtroppo essendo vittime del proprio successo c'è bisogno di case e c'è bisogno di case a prezzi a prezzi abbordabili senza consumare il suolo senza consumare il suolo aggiuntivo che poi ovviamente va a giocare a favore del tema della sostenibilità perché è la cosa migliore che si possa fare e non fare assolutamente nulla la seconda migliore cosa da fare è recuperare l'esistente quanto più possibile e in Italia di esistente ce n'è molto quindi io credo che la rigenerazione urbana sarà il modello attuale sarà sempre di più il modello del futuro perché che ci piace o meno il trend è quello dell'urbanizzazione perché è un modello sostenibile perché va a sfruttare a mettere a fattore comune le risorse e le infrastrutture e quindi ne abbiamo bisogno oltre che essere il trend attuale ed è di conseguenza il modello oggi più sostenibile che ci sia perché come dicevo metà fattore comune risorse Matteo invece tu come vedi il futuro di questa rigenerazione dei territori quindi dei piccoli comuni cosa manca cosa servirebbe per continuare questa trasformazione e questa tutela del territorio io posso partire unicamente dalla nostra esperienza la prima evidenza è che questa non è la critica come è stato gestito il PNRR piuttosto che altre politiche è che molto spesso non c'è bisogno di grandi interventi di diverse decine di milioni ma in un piccolo comune interventi da mezzo milione o milioni cambiano realmente la vita di diverse migliaia di persone portare viabilità migliore piuttosto che portare di nuovo alcuni servizi cambia decisamente la vita e da questo punto di vista forse il fatto che si è aperto maggiormente l'investimento da parte di imprese come la nostra non per fare speculazioni edilizie che in questi comuni vi garantisco che lasciano poco spazio ma proprio per raccogliere un'esigenza di modello diverso di vita lascia ben sperare che molto possa succedere nei piccoli comuni la quantità di immobili disponibili è talmente mi viene a dire esagerata che veramente non ha senso più mi verrebbe approvare nuove villette piuttosto che buttare giù un centimetro cubo di cemento nuovo perché c'è tantissimo da recuperare tra l'altro molto spesso è proprio bello anche non solo per il contesto urbano ma la grande speranza è che non come dire che alla rigenerazione immobiliare possa corrispondere come si inizia a vedere una rigenerazione anche a livello di vita e di impresa perché poi è bello avere un paese messo a posto ma se poi non ci succede niente fra vent'anni siamo al punto che a capo bene ci lasciamo allora con questo auspicio la rigenerazione di vita la rigenerazione sociale insieme alla rigenerazione urbana io purtroppo vi devo salutare in caso ci cacciano vi ringrazio perché avete veramente raccontato due aspetti molto diversi ma molto complementari della rigenerazione del nostro paese grazie grazie mille grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti